Buongiorno e benvenuti a tutti. Diamo inizio la nostra conferenza stampa di vigilia. Come sempre vi chiedo di iniziare con una domanda, vediamo se rimarrà tempo per farne altre al termine. Iniziamo con JTV. Buongiorno Ministro, Enrico Zambrano di Juventus TV. Le chiedo che derby ci dobbiamo aspettare domani considerando il momento della sua squadra adesso. Grazie. Il derby è sempre una partita speciale, comunque una stracittadina. Giochiamo contro un Torino diciamo che è un anima toro. Su questo è stato bravo molto Juric, anzi bravissimo a riportare le caratteristiche, il DNA della squadra, della storia del Torino. Noi giochiamo in casa, domani da quello che mi hanno detto ci sarà soldato per quello che potrà essere i tifosi juventini con 50% e quindi avremo sicuramente bisogno anche di loro. E la partita sarà complicata, è la terza, è l'ultima delle tre partite con tre squadre che giocano allo stesso modo. speriamo di aver imparato qualcosa alle prime due. Buongiorno Mister, Fabrizio Ferrero Mediaset. A qualche giorno di distanza le chiedo, c'è più rammarico per l'occasione persa con l'Atalanta perché si potrebbe recuperare due punti su Inter e Napoli, più sollievo per il gol invece segnato alla fine quando tutto sembrava più complicato e se sente qualche responsabilità in più del solito magari per i cambi un po' tardivi. Ma i cambi tardivi, la squadra stava facendo bene, poi abbiamo preso gol su una palla dove potevamo fare una situazione favorevole noi e invece poi questo ha fatto un gol meraviglioso. Però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, anzi pieno. Giocare con l'Atalanta era semplice, è un buon punto e quindi siamo rimasti anche con una partita in più davanti all'Atalanta e quindi bisogna continuare il nostro percorso. Noi comunque bisogna fare un tot di punti per cercare di arrivare nelle prime quattro. Quelle partite giocate in quel modo lì, poi dopo alla fine rischi di perdere perché era più persa che vinta alla fine quindi bisogna essere positivi. Questo però non ci deve accontentare del pareggio che abbiamo fatto ma bisogna essere arrabbiati perché comunque il pari di venerdì con l'Atalanta diventa un risultato buono, ottimo, ottimo, se domani riusciamo a vincere il derby. Poi la cosa strana del calcio è che quando fai un pareggio sembra che tu abbia perso due punti, però dopo alla fine del campionato l'obiettivo non è la partita, il punto lì e alla fine devi sommare tutti i punti che fai durante la stagione. Bastava aver pareggiato, no ho vinto, aver pareggiato due partite, coinvolta solo all'andata, avevi due punti in più, già la classifica era già diversa. In quel momento lì bisognava battere quello, bisognava battere a quell'altro, invece alla fine dell'anno comunque non puoi sempre vincere perché è impossibile sempre vincere. Piacerebbe ma è difficile. Allora cosa si deve fare? Un totto di punti. Un totto di punti una volta li fai da una parte, una volta li fai dall'altra. E anche il punto è importante. Perché? Perché dopo alla fine vinci e perdi lo scudetto per un punto, vinci e entri, entri o esci dalla Champions per un punto, retrocedi o ti salvi per un punto. Ecco perché in quel momento della partita dici madonna è meglio tre punti perché poi dopo alla lunga magari fai altri tre punti ad altra parte. Ad esempio abbiamo vinto a Roma in una partita isperata dove è una partita già persa e dopo i ragazzi sono stati bravi a ribaltarla e ci è andata bene. E quindi poi comunque le cose si equivalgano. Ecco perché i punti non sono mai da buttare. Buon pomeriggio mister. Luca Cavallero ti è un voredio. Le chiedo un giudizio su Bremer e se è un difensore che le piacerebbe allenare. Grazie. Ho mi fatti dare giudizio sugli altri giocatori perché i giocatori mi ha insegnato Fabio Capello. Una volta mi portò un esempio. Un giocatore che lui quando andò a allenare della Madrid non non gli piaceva. Mi ricordo se non sbaglio era ridondo. Arrivare a Madrid giocava sempre con lui. I giocatori vanno allenati per dare un giudizio perché dall'esterno sì è un giudizio ma è un giudizio più superficiale di quando l'alleni. Buongiorno Giovanni Guadalasca e Sport. Come diceva prima è la terza squadra che gioca praticamente allo stesso modo rispetto al Verona e all'Atalanta. Quindi le chiedo rivedremo i tre ancora davanti visto che comunque via Real sono quattro giorni. No diciamo che è la terza squadra che gioca allo stesso modo e quindi fortunatamente le partite sono state abbastanza compresse altrimenti ci vennerà noia a fare l'allenamenti. Mi toccava inventare dei giochi e rubava indietro le robe perché sempre fa gli stessi allenamenti poi ci vennerà noia. Quindi domani è una partita molto complicata e non so ancora se scriverò tra i davanti. Sicuramente così prima che me lo domandate non ci sarà Bonucci perché ha un affaticamento al polpaccio. Vedremo se sarà disponibile per martedì. Ha fatto una buona partita a Bergamo. Purtroppo già al secondo tempo era affaticato e poi l'ho tolto. Poi Bernardeschi non è ancora pronto perché comunque c'è questa infiammazione l'adduttore un po' sul pube quindi non possiamo rischiare poi di perderlo. Chiellini out. Chiesa out. Daniele squalificato. E quindi un po' chi c'è? Chiellini out è già detto. Quindi chi gioca? Difensori centrali? La domanda è che magari tra volte lo conosco. Dipende. Dipende. Bravo. Potrebbe. Buongiorno mister Nicola Gallo gruppo Mediapason. Allora visto che siamo qui le chiedo se Quadrado rientra alto e basso o basso. Se potrebbe essere la partita per Ken e se cambia qualcosa nella preparazione della partita se gioca Belotti o Sanabria. Aspetta no. Aspetta no ma non è tanto le tre domande. È che sono in confusione. Mi sono già scordato alla prima. Un pezzo da Sanabria e Belotti bisogna che andate al comunale a domandarla a Iurici perché non sono io che fa la formazione. Magari giocheranno tutti e due insieme. E l'altro Ken sta meglio e domani valuterò se giocare con il tre davanti, se giocare con Morata a sinistra, con Ken a sinistra. Comunque l'altro giorno quando è entrato è entrato bene. Credo che sia un giocatore importante soprattutto in questo momento ci sono partiti una dietro l'altra. Come tutti perché comunque tutti bisogna stare bene. La squadra sta bene fisicamente. Abbiamo lavorato molto e quindi sono contento. L'importante è affrontare la partita con equilibrio perché comunque sono 95 minuti dove dobbiamo portare a casa la vittoria. Contro una squadra sicuramente che sul piano fisico ci impegnerà molto. Buon pomeriggio Romeagressigol.com. Mister, nelle ultime partite non ha giocato molto Pellegrini. Le chiedo se sono state semplici scelte tecniche oppure magari anche legate a una condizione non ottimale. Grazie. Luca, sono molto contento perché tra l'altro un giocatore che aveva mercato all'inizio ha voluto rimanere, si è ritagliato il suo spazio, è cresciuto molto. Poi come era normale che forse ha avuto un momento un pochino di appannamento perché comunque poi ha avuto un po' di acciacchetti vari e ora è una buona condizione. Quindi è un giocatore che è ritornato affidabile. Buondì Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ha parlato prima di anima Toro. Che anima si vede fuori secondo lei la Juventus? Che anima ha la Juventus? Credo che siano stati messi da parte molto gli obiettivi personali e sono messi a disposizione della squadra. La squadra è una squadra dopo un po', dopo ora sono sette mesi che siamo insieme, credo sei sette mesi che siamo insieme, ci conosciamo meglio. Solamente anche il modo mio di parlare con loro, ora anche loro conoscono meglio il mio linguaggio, io conosco meglio loro e quindi diciamo siamo più squadra. Poi c'è entusiasmo, c'è voglia di arrivare, di tornare a vincere. Ripeto, quest'anno sarà molto difficile, in campionato anzi quasi impossibile, però abbiamo degli obiettivi importanti perché ora intanto domani è una partita importante, è uno snodo importante del nostro campionato, poi il proseguo del nostro campionato, perché poi ci dobbiamo preparare martedì a una partita bella, difficile, col Villareal che sarà una partita totalmente differente da quella che sarà quella di domani e quelle che sono state le ultime di campionato. Giorno mister, Alberto Mauro, messaggero Juventus News 24, lei ha parlato di anima e DNA toro di Juric, volevo chiedere se c'è qualche caratteristica che prenderebbe in prestito o ruberebbe al toro di Juric, grazie. Come il? Qualche caratteristica del toro o di Juric che prenderebbe in prestito, grazie. Juric è un allenatore che è bravo, che ha fatto molto bene a Verona e sta facendo molto bene a Torino, quindi comunque capire come lavorano gli altri allenatori che hanno è sempre bello perché comunque il confronto aiuta a crescere e non si può rimanere sempre sulle stesse cose, ecco, quindi io dico sempre che non c'è un metodo, non c'è solo un metodo per vincere e soprattutto dipende anche in che società sei e che DNA ha quella società e credo che Juric sia stata fatta un'ottima scelta da parte della società per caratteristiche tecniche e caratteriali per il toro. Salve mister, Giorgio Musso di calciamercato.it, le chiedo un suo giudizio sulle prestazioni di Morata e si parla di lui anche per il futuro, se lei sta spingendo per la conferma di Morata anche l'anno prossimo, grazie. Morata sta facendo, ma Morata, discutere Morata tecnicamente è follia pura, Alvaro ora sta facendo molto bene, sono contento, è più sereno, è più tranquillo, ora la vivendo, se parlare di mercato ora, quando mancano tre mesi alla fine della stagione, ora bisogna essere concentrati sul momento, sono tre mesi meravigliosi da giocare con divertimento, con passione, con orgoglio, con volontà per raggiungere risultati e per fare qualcosa di importante, bello e straordinario, quindi ora bisogna stare tutti concentrati su quello che dobbiamo fare, poi a giugno vedremo. Buongiorno mister, Domenico Marchese della Repubblica, lei ha detto che Verona, Atalante e Torino giocano più o meno, hanno lo stesso filone tattico, comunque lo stesso approccio alla partita, ma quali sono le caratteristiche del Torino che differiscono dalle due precedenti partite? Grazie mille. Tattiche, diciamo forse più tecniche, comunque sono tre squadre fisiche allo stesso modo, che danno grande intensità alla gara, infatti la Juventus è uscita in denne le prime due, perché comunque si è messa sullo stesso piano loro. Noi bisogna giocare le partite fisiche sul piano degli avversari, poi alla lunga è normale che le qualità tecniche vengano fuori. Buongiorno Fabiana della Valle Gazzetta dello Sport, volevo sapere quanti dubbi hai a centrocampo e se Artur può essere titolare domani. Dubbi a centrocampo è uno tra Zacche e McKennie e uno tra Locatelli e Artur. Salve mister, Gianluca di Nuna Stampa. Invece volevo chiedere una cosa relativa alla Champions, se lei ha visto le partite di questi due giorni e se quindi come dire, vedendo anche le partite del campionato di Serie A, anche se effettivamente Atalanta e Juventus è stata una partita molto europea, anche molto da Champions, qual è ancora il gap da colmare? Mi riferisco anche soprattutto vedendo ieri Inter-Liverpool. Grazie. Direi che ieri sei è stata una bella partita, c'era fare complimenti all'Inter per come hanno giocato, poi hanno di fronte una squadra a livello di esperienza e di gestione della partita, sicuramente dove i giocatori hanno giocato più partite, più finali i Champions, però hanno fatto una bella partita. Diciamo che la Champions ora è un po' cambiata, perché comunque il fatto del non-goal che non vale più un trasferto a doppio, quindi le partite possono essere gestite anche in modo diverso e giocate in modo diverso. Poi per quanto riguarda questo gap che c'è, poi in Champions quando ci sono le partite di sé che può succedere di tutto, nonostante che le squadre inglesi più il Paris Saint-Germain, il Bayern e il Real Madrid siano le candidate, tra virgolette, a vincere la Champions. Però questo non deve far sì che nessuno non debba avere l'ambizione di poterla vincere. Massimo Scarinzi, Telenova. Mister, proprio su questo volevo chiederle, è rimasto colpito dal fatto che in questi ottavi di finale il Bayern ha pareggiato, Real Madrid-Paris Saint-Germain non è stata una partita particolarmente spettacolare, quindi può esserci spazio per una sorpresa e poi anche se lei dice sempre ci sono tre o quattro squadre top, se secondo lei è ancora così vista le partite degli ottavi. Non si può dare un giudizio su una partita, il valore delle squadre è assoluto, nel senso che una squadra è forte, meno forte, più debole, questo non può cambiare. Però se parliamo della Champions oggi, poi io lo dico cosa vi racconto? Nulla. Quindi parliamo del campionato, se no andiamo a mangiare. No, se no a Martini non ci raccontiamo niente. Di cosa? Sì, ho visto Liverpool-Inter, ho visto Paris Saint-Germain e Madrid, ho visto Bayern, ho più o meno ho visto tutti. Buongiorno mister, Filippo Consiglio del Corrierello Sport. A proposito di Zaccaria, le chiedo se continuerà da mezzala oppure può essere spostato davanti alla difesa magari per liberare Locatelli da interno? Grazie. Momentaneamente può fare l'interno, fa meglio l'interno del centrale, anche perché non l'ho ancora provato da centrale, quindi poi è più facile che in mezzo giochi a due che da solo. Buongiorno mister, Fabio Riva del Tutto Sport. Una curiosità molto da derby, cioè se lei ormai a Torino da quasi dieci anni, da otto anni, ce l'ha un qualche, quasi vive la torinese, il Massimiliano Allegri torinese ha un qualche granata che sa che potrebbe rompergli le scatole sabato o goliardicamente stuzzicarlo, non so se vicino di casa al barista, c'è un clima da derby anche. Ce n'è abbastanza, ce n'è abbastanza che ho amici e conoscenti di Granata che nell'ultima settimana mi hanno abbastanza stuzzicato anche perché per loro hanno veramente una passione straordinaria per il Torino, però sempre nei limiti dell'educazione e del rispetto e questo credo che sia la miglior cosa. Direi l'ultima. Buongiorno, Timoti Ormezzano per il Corriere Torino. Volevo chiedere, il Torino ha vinto un solo derby negli ultimi 27 anni e qui in casa della Juve non vince dal 95. Allora volevo sapere se questi grandi numeri la tranquillizzano, la agitano oppure la lasciano indifferente. Come mai, insomma, questo è il derby più sbilanciato d'Italia, si può dire. Grazie. I derby non sono mai sbilanciati perché comunque il Torino quando gioca i derby li gioca sempre col cuore oltre che con la tecnica, quindi per noi domani è una partita molto difficile e soprattutto è importante per il campionato. Bisogna fare una bella prestazione perché poi loro vengano a due sconfitte, immeritate, giocando due buone partite e quindi saranno ancora più arrabbiati. Quindi domani ci vorrà una bella prestazione, soprattutto per preparare al meglio la partita di martedì. Bene, vi ringraziamo. Grazie e buona giornata.